Mariana Mirante è il nuovo giovanissimo segretario del PD a Pozzuoli. Come mai questa scelta sul tuo nome per un ragazzo così giovane? Io innanzitutto vorrei ringraziare il Partito Democratico, il segretario uscente, l'intero direttivo e tutti quanti che hanno appoggiato la mia elezione. Credo che la mia indicazione non sia un'indicazione di strappo ingiustificato di tipo generazionale, credo che la mia indicazione sia un reale volontà di rinnovamento che il PD ha sempre avuto dai primi momenti fino ad oggi, impegnandosi a formare, a dare vita, dare una mano al gruppo dei giovani democratici. Si sono sempre attivati all'interno del partito e nella città. Segretario, adesso con la sua elezione il partito si schiera con Bersani o con Renzi? Beh, questo è un ragionamento che bisognerà portare avanti, una discussione che bisognerà fare all'interno del partito. Io vorrei sottolineare più che altro l'importanza che le primarie dovranno avere in questo momento storico. Le primarie devono essere un'occasione, un'opportunità che non dobbiamo assolutamente perdere, dobbiamo sfruttarla per cercare di ricompattare la cittadinanza con le istituzioni e con la politica. Quali sono i due principali obiettivi che si propone al segretario nel breve periodo? I principali obiettivi sono quelli di rendere questo partito ancora più organizzato, più operativo sul territorio. Ieri abbiamo fatto una relazione in cui sottolineavo l'importanza della creazione di dipartimenti, di gruppi di lavoro, che potessero avere un punto di riferimento tra la cittadinanza e l'amministrazione. e creare una rete, non solo come PD di Pozzoli, ma anche allargandosi affinché si dia una mano reale a questa città.